Bene, ritrovate. Quando una donna dopo la menopausa lamenta questa secchezza, in particolare vaginale, questa difficoltà ad avere rapporti, ma anche sintomi urinari, l'urgenza minzionale, il bruciore, a volte recistiti dopo il rapporto, quei sintomi che noi medici raggruppiamo sotto un termine un po' più complesso, sindrome genito-urinaria della menopausa, come li può trattare. Adesso abbiamo tanti tipi di terapia ed è bene che il medico poi la personalizzi consigliando alla donna la strategia migliore per lei. Qui mi piace discutere perché gli androgeni, in particolare in questo caso il deidroeprandosterone locale, c'è una forma sintetica che si chiama prasterone, possono essere utili proprio per curare e curare a lungo, se continuiamo la terapia, questo tipo di sintomi. La ragione principale è che si stanno accumulando molte evidenze scientifiche che dimostrano che gli androgeni nella donna, sia il testosterone, sia il deidroeprandosterone, hanno un prevalente ruolo anti-infiammatorio. Noi stiamo imparando a conoscere l'infiammazione come la chiave del recupero della salute, quando è breve, finalizzata a ripristinare la salute anatomica, fisiologica, funzionale dei tessuti. Ma sappiamo anche che invecchiamento e menopausa costituiscono invece una condizione infiammatoria cronica di basso grado. Noi siamo permanentemente infiammati e più siamo infiammati più siamo malati. Nella donna l'estrogeno che fluttua o la carenza postmenopausale aumentano l'infiammazione. Testosterone e deidroeprandosterone la riducano, con evidenze, ripeto, sia a livello genitale che sistemico. Mi piace concentrarmi sulla parte genitale oggi per rassicurare le donne su un concetto cardinale, che testosterone e deidroeprandosterone applicati localmente hanno un'azione antinfiammatoria, ricostruttiva, nutritiva e anche quindi protettrice della sessualità e della funzione urinaria, in ottimo profilo di sicurezza, perché ai dosaggi e con la modalità con cui li usiamo restano solo lì. Quindi le donne, anche le più preoccupate della parola ormone, possono essere molto rassicurate. Per quanto riguarda il prasterone, molecola che è un dea sintetico, messo a punto dal professor Labrie in Canada e studiatissimo negli Stati Uniti, al punto che l'FDA, che è l'ente regolatorio americano severissimo, ne ha provato l'uso in vagina come ovuli senza limiti di tempo, quindi può usarlo anche mia nonna fino a 100 anni, ovviamente sempre con accurata valutazione clinica e senza black box, cioè senza note di preoccupazione. Perché? Perché questa sostanza entra, questo ormone, il dea, nelle cellule, viene trasformato negli ormoni figli, testosterone, estrogeno e stradiolo e poi vengono dismessi cataboliti, cioè residui inattivi. Il punto dell'antinfiammatorio è molto importante perché si coniuga a questa grande capacità invece ricostruttiva. Ecco che allora noi vediamo che a tutto spessore migliora la parete vaginale, aumenta lo spessore della mucosa, della sottomucosa, i vasi sanguigni sono di nuovo più trofici, si dice, più elastici, più permeabili, le fibre nervose più allegre. Possiamo dire che anche i nostri operai costruttori, in particolare per esempio i fibroplasti, aumentano la loro produzione fino al 30%. Quindi noi abbiamo un parallelo tra, da un lato, l'attività di pompieri che hanno il prasterone e il testosterone e dall'altro una parallela azione di ricostruttori. Io spesso li uso insieme perché? Perché il prasterone in vagina svolge le sue funzioni sulla vagina con beneficio sia sullo stato di nutrizione della vagina sia sulla sessualità, ma viene anche quel po' assorbito sulla parete vaginale anteriore e va ad aiutare il benessere uretrale. Il testosterone è un ottimo operaio, un ottimo alleato sia pompiere che ricostruttore. Applicato ai genitali esterni, quindi sulla vulva, mi migliora la nutrizione dei tessuti, di nuovo a tutto spessore, mi contrasta atrofie, distrofie, lichen sclerosus e mi mantiene una migliore risposta sessuale dei genitali esterni. Messo all'entrata vaginale aiuta, sempre su indicazione del medico, a irrobustire letteralmente le mucose dell'entrata e a rendere meno vulnerabili all'infiammazione e alle microblasioni e applicato alla parete vaginale anteriore, aiuta in maniera formidabile la ricostruzione dei tessuti dell'uretra, che è il canalino che porta l'urina dalla vescica all'esterno. Che cosa mi dicono le donne? Che notano? Innanzitutto una sensazione di idratazione che avevano dimenticato, una sensazione di morbidezza, di recettività, cioè si sentono più accoglienti con le loro parole, ma anche un'eccellente risposta sessuale e una riduzione dei sintomi vescicali. Ecco perché le evidenze scientifiche che si stanno accumulando ci fanno usare con sempre maggiore convinzione e serenità questi aiuti che solo a livello genitale possono già cambiare decisamente la percezione di salute, ma anche la qualità dell'intimità delle donne avanti anche negli anni, ben oltre la menopausa. Quindi pensiamoci.